Musica Sabato 2 settembre, buongiorno, bentrovati dall'informazione del mattino di Tele Molise, in regia c'è Nicola Passarelli. In apertura parliamo di trasporti. La regione Molise è condannata a pagare oltre 900 mila euro in favore della società ATM. A deciderlo la sezione civile del Tribunale di Campobasso. Si tratta dell'ennesimo scivolone per la coppia Frattura-Nagni. La regione si era opposta all'adeguamento contrattuale dei dipendenti ATM, così come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ce ne parla in questo servizio Pasquale Di Bello. Ennesimo scivolone per la coppia Frattura-Nagni, gemelli dell'autogol del trasporto molisano. A fare notizia questa volta non è il consueto ritardo sulla tratta Campobasso-Roma, ma una scoppola da oltre 900 mila euro. A tanto equivale la maxi condanna inflitta alla regione con una sentenza della sezione civile del Tribunale di Campobasso. Al centro della vicenda, gli adeguamenti economici riconosciuti dal contratto collettivo nazionale ai lavoratori. Somme non dovute, secondo il governo regionale, quattrini invece da scucire, secondo l'ATM. Sta di fatto che lo scontro arriva in Tribunale, dove la regione, temerariamente, affronta un contenzioso che l'ha vista soccombere. Sconfitta a tal punto da non ricorrere nemmeno all'appello, ad ammettere lo scoppolone e la regione stessa, e precisamente il Dipartimento Governo del Territorio Mobilità e Risorse Naturali, che con determina del 31 agosto 2017, ammette candidamente che è meglio fermarsi nel braccio di ferro al fine di evitare un notevole aggravio di spese. Resta da capire per quale misteriosa regione il governo molisano si sia avventurato in una battaglia legale, il cui esito appariva scontato. Siamo quindi passati dal partito dei coppoloni a quello degli scoppoloni. Tutti ricorderanno la pagliacciata dell'estate 2017, ovvero il varo dei treni swing, con a bordo una serie di politici regionali, tra cui il presidente Frattura, l'assessore Arramo Nagni, e il consigliere delegato alla cultura, Domenico Ioffredi, addobbati con coppole da ferrovieri come se fossero al carnevale di Viareggio. A vederli parevano divertenti come i fratelli Marx, ma a pensarci bene risultavano più grotteschi delle sorelle Bandiera. Da quella in vereconta pagliacciata i trasporti molisani sono andati sempre peggio, tanto che da più parti si leva pressante una richiesta. Che restino a casa poiché ogni volta che si muovono inevitabilmente c'è qualcosa che va storto. Alle beffe e alle pagliacciate ora si aggiungono i danni, pari ad oltre 900 mila euro, tra somme dovute, interessi e spese legali. Resta da capire se questa era una causa da fare e da sostenere, oppure una delle tante avventure regionali i cui costi extra finiranno, tanto per cambiare, per essere sostenuti dai cittadini molisani. Adesso parliamo di scuola. Ho scritto al Presidente Frattura per chiedere misure immediate di sostegno per i docenti molisani che per l'anno scolastico in corso sono costretti a lavorare lontani da casa. Lo scrive in una nota il parlamentare Danilo Leva. Si tratta di 40 famiglie che si trovano ad affrontare innumerevoli disagi, sia dal punto di vista economico che familiare. Sono giovani, madri e padri di famiglia che non possono essere lasciati soli. Possiamo prendere ad esempio le iniziative attuate in altre regioni del sud, come ad esempio la Puglia e la Sicilia, spiega Leva, che hanno assegnato ai docenti dei contributi straordinari per sostenere le spese di affitto e di trasporto necessarie agli spostamenti. Affronterò la questione anche con un'apposita interrogazione parlamentare, conclude, ma l'istituzione regionale non può restare silente a quelle che rischiano di essere delle vere e proprie deportazioni. Con l'intervento dell'attore Giuseppe Zeno è stato inaugurato ai Serni allo spazio commerciale Dire, Fare, Sposare all'interno del centro commerciale Wewe Prezzi Bassi. Ragazzine in delirio per i selfie con il famoso protagonista di tante serie tv di successo, il servizio è di Michele D'Alessio. Si è conclusa con i fuochi protecnici la lunga e scoppiettante giornata dalle bomboniere alle stelle di nozze, addobbi casalingo, in genere salotti mobili, quello che serve tutto per il matrimonio. E di tre donne, Lucia e le sorelle Belinda e Filomena, che da oltre 20 anni, con i fiori, riescono a realizzare vere opere d'arte. Diciamo che è iniziato tutto per gioco in una serata tra amiche e si parlava, si scherzava ed è nata questa idea di unirci sia amichevolmente sia lavorativamente. Dopo 22 anni di attività inizia un nuovo cammino per noi tre e noi siamo solidali, amiche da tanto tempo, ci conosciamo e per cui il nostro futuro lo vediamo roseo. Ne andrà tutto benissimo, vediamo di esaudire tutti i desideri della città di Nanza e Sernina, abbiamo di tutto, il prezzo è la nostra forza. Per tutta la giornata un gruppo di ragazze in bici ha girato in lungo e in largo la città, dire, fare, sposare, questa la scritta in bella evidenza sulle loro magliette, stesso motto in negozio, tanta, tantissima gente, il taglio del nastro, la ressa per l'arrivo dell'artista Giuseppe Zeno, cortese e disponibile a centinaia di foto e di selfie. Siamo amiche delle proprietarie, sono molto brave, siamo clienti affezionate. A parte il fatto che è stato ampliato, ma poi è una vasta scelta per qualunque cosa, quindi ci si può anche passare piacevolmente il tempo per vedere tante cose per la casa, oltre che i fiori. È entusiasmante, prima cosa perché si tratta di libera imprenditoria, io credo molto nella libera imprenditoria, credo molto nel fatto che più che il posto fisso, la busta pago, quello che sia, la libera iniziativa, nei giovani soprattutto, sia il futuro. Il lavoro uno se lo deve anche un po' inventare, deve credere in se stesso e spendere le energie per se stesso e per gli altri in modo da ricavarne un utile interessante, fornire un servizio ma nello stesso tempo realizzarsi professionalmente. È un negozio bellissimo, un negozio innovativo, un negozio che comunque mancava di Sernia e penso che anche l'immagine è bella e di conseguenza io faccio a loro tantissimi auguri perché Sernia ha bisogno di persone che fanno, persone che stimolano questo paese. Devo dire la verità che sono contenta perché ci voleva, ci voleva di Sernia qualcosa di nuovo e quindi speriamo bene comunque, fa piacere. È molto carino, molto raffinato, molto chic, quindi secondo me può fare. È tutto con la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Iniziamo con il giornale del Molise.it. In apertura la questione trasporti dai coppoloni agli scoppoloni. La regione è condannata a pagare quasi un milione di euro. L'articolo è firmato da Pasquale Di Bello, l'avete sentito anche nel nostro notiziario. Poi c'è la sanità. Futuro dell'ospedale Vietri di Larino. Il Consiglio di Stato blocca altri tagli. L'udienza a febbraio. Ancora incendi, soprattutto nel Basso Molise. C'è stato un pasto rogo a Montenero. Squadre dei Vigili del Fuoco fermano il fronte del Fuoco. Carresi del Basso Molise è superato lo scoglio dell'ordinanza Martini. L'onorevole Venitelli annuncia le novità. Ancora siccità. Il livello della diga del Liscione si è abbassato di due metri e mezzo in un mese. Ieri comunque le prime piogge. Vedete, ci sono altre notizie. Termoli, cena di solidarietà per Amatrice. È riuscito l'evento della misericordia ad accolti 11 mila euro. Ancora dal doppio ferroviario tra Termoli e Lesina c'è l'intervento di Di Brino. Solo una passerella elettorale. In basso alla sezione editoriali Idee e Opinioni. Le notizie dalla Regione e dall'Italia. Aperture diverse per i quotidiani cartacei. Cominciamo con Primo Piano. Legge elettorale ASPD 5 Stelle sull'eliminazione del disgiunto. Lunedì a Palazzo Daimmo si apre la discussione sulla riforma. Maggioranza Grillini sono d'accordo. Non si potrà più votare il governatore di uno schieramento e il consigliere di un altro. E Frattura, scrive Primo Piano, riscende in campo. Realizzeremo un report con le cose fatte e quelle non riuscite. A centro pagina la questione vaccini. Una guida online con tutte le informazioni. Dunque nessuna fila. Basta una mail per prenotare presto l'intesa con i pediatri. In alto questa notizia. Hai la pelle nera? Niente casa. Infitto. Accade a Pozzilli. È la denuncia di un imprenditore che ha alle dipendenze due giovani di colore. Garantisco per loro ai proprietari. Ma quando svelo nazionalità nessuno è disposto a cedere. Nemmeno una stanza, ha detto appunto al quotidiano. Nel box di spalla accoglienza e ai servia il clima si fa incandescente. Volano gli stracci nel centro-destra. Vediamo le altre notizie. Occupazione. In un anno i contratti aumentano del 35%. Fanno meglio solo le marche. Questo è quanto emerge da un'indagine dell'Inps. Notizie di spalla. Il bollettino di guerra. In due mesi le fiamme hanno divorato 1300 ettari di vegetazione. Questo dunque tra luglio e agosto. Ieri la notizia è stata anticipata dalla Protezione Civile Regionale. Ad Iserni adesso. Fantozzi in giunta da Pollonio frena. Fabrizio affonde. Dice hanno fallito. Da San Polo Matese è accoltellato. Ricorderete questa vicenda. Accoltellato in Australia per difendere una donna. L'omaggio del paese a Luigi Spina. Adesso uno sguardo al mondo del calcio. La Serie D. Selva Piana. Lo stadio di Campobasso. Agibilità solo per un mese e mezzo. La Commissione ordina nuovi interventi allo stadio. Coppa Italia. Due anticipi nella Kermess regionale. Si gioca Aururi e Mirabello. Per il basket femminile. Infine Magnolia. Sabatelli è ottimista. Nel gruppo c'è voglia di fare bene. Ha detto. Il quotidiano apre con la questione vaccini. E tutto è più facile. Illustrate le linee guida operative da ASREM e Regione. Prevenzione e semplificazione. Dunque queste le parole d'ordine. Tre numeri di telefono. Altrettante mail per la prenotazione. E le case della salute sul territorio per effettuare la profilassi. Intanto Frattura annuncia un report per spiegare le cose fatte. Comunicheremo quanto fatto in questi anni. Altro box. Siamo da Isernia. Le notizie da Isernia. L'impiego dei migranti è a costo zero per il comune. Adesso a Campobasso. Sui licenziamenti degli autisti SEAC. Tuona l'assessore alla mobilità Francesco De Bernardo. Andiamo a vedere le notizie sotto la testata. Incendi pesante. Bilancio della protezione civile. Cento roghi e oltre 1300 ettari distrutti. Intanto per la siccità è sempre più emergenza. In Alto Molise i cinchia e cinghiali si dissetano nelle fontane. In basso la politica. Strategie future del PD al nuovo circolo di Montaquila. Mentre per la sanità. Avvertenza Vietri. Se ne riparla a febbraio. Il Consiglio di Stato ha messo la situazione in stand by. Cultura. Premio Fabrizio De Andrè. Scelti i 12 finalisti. Si sono stati selezionati durante le semifinali che si sono svolte a Pietracatella. Anche qui il calcio stadio. Quello di Campobasso. Capienza fissata a 3950. Proroga fino a metà ottobre. Il calcio di Serie D ancora agnonese. Ufficiali. Gli ingaggi di Rullo e Cassese. Si parla di scuola. Oggi in apertura dell'edizione del quotidiano telematico futuro Molise. Legge 107. La cosiddetta buona scuola. Riduzione dell'organico nel Molise. La risposta della regione alla mia interrogazione. Parla dunque il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo. Diga di Chiauci a secco. Agricoltura molissana in ginocchio. Cavaliere. Il consigliere Nicola Cavaliere dice che fine ha fatto la regione. La cultura ha presentato il cartellone degli eventi del settembre. Isernino 2017. Solo 5 mila euro per un mese di eventi. Lo costa. Intanto per la politica torna a riunirsi lunedì 4 settembre il consiglio regionale. In basso per quanto riguarda le notizie di attualità. Izzo dice chiude la biblioteca provinciale di Sernia nel silenzio più complice. Si apre un'altra vergogna. In basso vertice in prefettura. A Sernia su sicurezza durante le manifestazioni pubbliche. Contrasto al fenomeno dell'incidentalità stradale. Di questo si è parlato dunque in questo vertice. Aperture diverse anche per i quotidiani nazionali. Alcuni puntano sulla questione vaccini. Altri su altre vicende. Iniziamo dal Corriere della Sera. Case occupate sono 49 mila. Il più del 20% in 10 anni. La circolare di Miniti. Cabina di regia per gli sgomberi. Il presidente dell'associazione magistrati dice non dobbiamo essere toghe con l'eschimo. A centropagina vaccini e scuola. Una telefonata all'ASL per iscrivere i figli. Dunque le nuove regole. E ieri ci sono state tensioni a Palermo. La Repubblica punta su questa notizia. Università raffica di ricorsi. Via il numero chiuso. I lettori dicono così. Si rischia il caos. Tutto questo dopo lo stop del Tarra del Lazio a Milano. È battaglia adesso in altri Atenei. Dossier laureati. Solo a 27 anni. Delude intanto la riforma del 3 più 2. In basso anche qui la questione vaccini. Più facili le iscrizioni in classe. C'è l'autocertificazione. La stampa quotidiano di Torino. Apre con un'intervista al ministro di istruzione Fedeli. Così accorcerò le medie. La ministra dice inevitabile rivedere i cicli. E l'Erasmus sarà esteso alle superiori. Poi sui vaccini. Circolare governativa alla vigilia della ripresa dell'anno scolastico. Per l'iscrizione basta solo. L'autocertificazione abbiamo visto anche sugli altri quotidiani. Adesso il fatto quotidiano. Mentre condannavano Dell'Utri. Renzi riscriveva la carta con Berlusconi. Parla il PM di Matteo alla Versiliana. Dice processo trattativa delegittimato da Napolitano. In alto Boschi nomina al CNEL chi voleva cancellarlo. E poi il fatto aggiunge chi non muore si risiede. L'ente inutile della discordia. Ricorderete anche il referendum. Adesso il messaggero quotidiano della capitale. Sgomberi. La regia passa al Viminale. La stretta delle nuove regole. Cabina col Ministero, Comuni e Regione. Interventi più rapidi. Intesa dunque tra la sindaca Raggi e il ministro all'interno Minniti. Il sindaco dice servono caserme e sgravi fiscali per l'emergenza abitativa. Centro pagina vaccini basta solo l'autocertificazione per iscriversi a scuola. Dal messaggero adesso a Libero che apre con una notizia che riguarda il Papa e la strizza Cervelli. Scrive il quotidiano di Feltri. Anche Bergoglio è un uomo qualunque. E vediamo perché secondo Libero. Francesco si confessa in un libro intervista. È stato in analisi da un ebrea e si è fatto spiegare il mondo da una comunista. La donna più importante della sua vita. Sferzata all'Islam. Dice per evolvere deve smettere di seguire alla lettera il Corano. Uno sguardo al mondo dell'economia e della finanza. Con il sole 24 ore il super euro non fa paura. Conta di più la ripresa per manager e imprenditori. Il rafforzamento della moneta unica è destinato a continuare. Rallenta intanto l'occupazione negli Stati Uniti. Solo 156 mila posti in agosto. Il manifesto consueta grande foto con titolo secco. Murati dentro. La notizia riguarda gli esteri in Messico. In particolare Trump ha deciso. Ha deciso scelte le quattro aziende che costruiranno la barriera storica tra Stati Uniti e Messico. Un modello globale di esclusione contro i migranti. Avranno contratti di mezzo milione di dollari l'una. Al vaglio i prototipi del mega muro. Scontro per ora solo sul budget con il congresso. Dunque lo aveva promesso. Trump pare che stia portando avanti questo suo progetto di realizzazione di un muro con il Messico. Il quotidiano della CEI avvenire con la terra ferita soffrono i poveri. L'appello del Papa e del Patriarca Bartolomeo. Dunque un messaggio per la giornata del creato. E' un richiamo ai potenti. La soluzione alla crisi ecologica solo da risposta concertata e collettiva. La verità, il titolo di apertura di oggi è questo. Tutte le balle che si bevono i giudici per dare il permesso ai clandestini. E poi aggiungere i veri profughi sono pochissimi. Le commissioni bocciano la maggior parte delle richieste d'asilo. Ma poi la quasi totalità dei ricorsi viene accolta in tribunale. La motivazione? Le più risibili. Le motivazioni le più risibili. Da mio zio mi detesta a mio padre è diventato cieco. Dunque queste alcune delle motivazioni. Anche qui Papa Freud sorpresa. Bergoglio si confessava da un psicoanalista ebrea. Chiudiamo anche la verità. Andiamo a vedere il tempo che apre con questa notizia. Ricorderete anche questo episodio di cronaca. Spezzategli le braccia rimosso. Trasferito il funzionario di polizia che nel video si rivolge ai colleghi bersagliati dalle pietre. Preso intanto l'immigrato di Curtatone spacciava droga. A termini extracomunitari offrisce due agenti. C'è questa grande foto in ginocchio. Letture del Corano in tante piazze e parchi italiani. Qui si vede appunto in una piazza italiana a Roma la preghiera affidata a Baby Imam. Ed è polemica. Dal tempo adesso al mattino di Napoli. Bus e nidi. Il Sud perde ancora. C'è un'inchiesta del quotidiano napoletano. Lanci chi è più ricco come Milano riceve di più e il divario cresce. Le regole del federalismo fiscale non cambiano. Ignorato il Parlamento. A centro pagina di Sabile 15enne segregata tra i rifiuti. Dramma dell'abbandono a Torre del Greco. Il secolo d'Italia. Parla di retorica buonista. C'è la foto della sindaca di Roma, Raggi. Del ministro dell'interno, Minniti. Ieri un incontro. In basso invece leggiamo. Stupri, ancora emergenza. Ora castrazione chimica. Il mondo dello sport. La Gazzetta oggi dedica l'intera pagina alla nazionale italiana. Perché questa sera incontra la Spagna. E titola così. Azzurri, solo azzurri. E aggiunge ostacolo Bernabeu sulla strada di Russia 2018. In casa della Roca non vinciamo da 68 anni. Ma non si deve avere paura. Chiellini intanto è capò. Ventura ha tentato dal 4-2-4 con Candreva, Belotti, Immobile e Insigne. Ci sono delle interviste. Parla Sacchi. Dice attenti. Erano solisti. Adesso sono una squadra. Ronaldo Buffon. Un vero fenomeno. Dunque riconoscimenti per il porterone della nazionale anche da parte di Ronaldo. Bene, con la Gazzetta. Terminiamo l'appuntamento del mattino. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon fine settimana. E vi ricordo alle 14 il telegiornale. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale. 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 Grazie per aver guardato il nostro canale.